Siamo qui nella presentazione dei nuovi Huawei Ascend e senti spiegaci allora le novità. Allora, molto brevemente abbiamo qui l'Ascend Huawei Ascend G7. Le caratteristiche principali dell'esplitura sono un schermo da 5.5V, una fotocamera frontale da 5MP, una fotocamera posteriore da 13MP, quindi come possiamo notare la fotocamera anteriore è stata sviluppata molto di più rispetto a quelle altre che sono i tini del computer. Abbiamo un schermo in full HD da 1280 per 720 punti, quindi uno schermo comunque in full HD. Abbiamo la personalizzazione di Android in versione 4.4, la versione di Huawei personalizzata nel motion UI 3.0, quindi l'ultima release del software di Huawei. Andiamo a vedere, diciamo, quelle che sono le caratteristiche principali, quindi la fotocamera frontale che ci permette di avere una resa veramente alta dell'immagine. Condizioni di luci perfette, ok? Oggi non si comencemmo. No, ma va bene, va bene. Ok? La curiosità è la possibilità di fare i selfie panoramici con la posizione più panoramica, i cosiddetti gruffi, i selfie di gruffo. Quindi prendiamo il nostro dispositivo, premiamo sul click, lui scatterà una foto prima di un modo frontale e poi ci chiederà di spostarci verso sinistra e in successione verso destra per scattare appunto il terzo. Il software svilupperà le immagini, andiamo a vedere fra le immagini appunto, l'ultima immagine che vi faccio, vedremo che la virtuale anche, la qualità non è ottima logicamente perché è l'intensore, però questo è il senso. Abbiamo giusto giusto due caratteristiche ancora in più, processore quad e porto da 1.4 GHz più una memoria RAM da 2 GHz e una batteria da 3.000 mAh, che consente una durata molto lunga di spettacolo. Poi abbiamo un frattemolo maggiore. Ok, passiamo al Huawei Ascend Mate 7. Facciamo di vedere vicini così la gente si rende conto. Assolutamente. Allora, abbiamo i due dispositivi con lo schermo sbloccato, quindi abbiamo le dimensioni dello schermo che sicuramente sono più grandi rispetto a quelle del supertello minore, quindi abbiamo un 6 pollici come diagonale, sempre uno schermo Full HD da 1280x720 punti, abbiamo uno schermo luminoso comunque allo stesso modo, abbiamo la stessa tipo di fotocamera, quindi 13 megapixel posteriore e 5 megapixel frontale con lo stesso, opzione di poter fare i selfie panoramici. Ora, l'abbiamo mostrato nel telefono di prima, ma il funzionamento è lo stesso. Se il modice è bello grande. Assolutamente, diciamo che questo dispositivo è stato pensato appunto per un utente che utilizza un dispositivo per lavorare, quindi ha bisogno di vedere i file in maniera più, più file, non posso dire, più pose dello schermo, in modo ottimale, per ottimizzare un'esperienza in questo senso. Abbiamo un processore octa-core più un core, quindi 9, quindi un processore di lavoro, sviluppato da Huawei, prodotto da Huawei e 2 giga di RAM. La batteria invece, in questo caso, è da 4100 mAh che ci consente comunque un'atturata sempre giornaliera di utilizzo meglio di 15 ore. Non è male, non è male. Senti, la domanda del momento è, ma rispetto al nuovo iPhone 6 e iPhone 6 Plus, cosa direi se è un utente Apple? Apple, domanda molto insidiosa, cercherò di rispondere nel migliore dei modi. Io quello che potrei rispondere all'ottente Apple è sicuramente di avere comunque un ottimo prodotto, con le stesse caratteristiche tecniche, non le medesime, ma quantomeno le stesse caratteristiche a livello di processore, di hardware e di potenza, e con lo stesso tipo di rendimento. A livello software è molto difficile paragonare Android a un sistema iOS di Apple, però diciamo che... Ma a livello di prezzo, mi sai che ci sono vincenti. Ecco, il discorso è proprio quello di avere le stesse caratteristiche tecniche, quindi la stessa potenza hardware a un prezzo inferiore, nel caso del Mate 7 a 499 euro e nel caso del G7 a 399 euro. In questo caso possiamo paragonare due dispositivi, il G7 all'iPhone 6 e il Mate 7 all'iPhone 6 Plus, soprattutto per le dimensioni degli schermo. Grazie, sei stato eccezionale. Grazie mille a voi.